Come possiamo interpretare la potatura e il taglio dei tralci nella nostra vita quotidiana e spirituale? Potare e tagliare sono le due operazioni che avvengono tra aprile e giugno. Il termine tecnico è scacchiatura e consiste nell'eliminare i tralci nati dalle gemme di controcchio, quando sono ancora verdi e teneri. Si effettua poche settimane dopo il germogliamento, per favorire il passaggio della linfa verso il germoglio principale al fine di migliorarne la crescita. Ma che cos'è in effetti la potatura e il tagliare i tralci? La potatura è la pratica fondamentale per mantenere una costanza produttiva e in equilibrio tra attività vegetativa e di fruttificazione. Il taglio invece è l'operazione che rimuove parti della pianta indesiderate o danneggiate. L'obiettivo di entrambe le azioni è ottenere un buon raccolto di uva di qualità. Ora, tutto questo cosa c'entra con i discepoli e le discepoli di Gesù, che nel Vangelo di questa domenica sono paragonati a dei tralci? Il tralcio buono, il cristiano buono, è colui che resta unito, che rimane in Gesù e non cresce per conto suo. Rimanere in Gesù significa appunto essere unito a Lui, per ricevere la vita da Lui, l'amore da Lui, lo Spirito Santo da Lui, in quanto tralci abbiamo bisogno della linfa per crescere e per dare frutto. Ma anche la vita ha bisogno dei tralci, anche Gesù ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Gesù e Gesù ha bisogno di noi. Per fare cosa? Questo ce lo spiega bene Papa Francesco, che durante Regina Celi del 2 maggio del 2021 disse In che senso Gesù ha bisogno di noi? E' bisogno della nostra testimonianza. Il frutto che come tralci dobbiamo dare è la testimonianza della nostra vita cristiana. Dopo che Gesù è salito al Padre, è compito dei discepoli, è compito nostro continuare ad annunziare il Vangelo. Con la parola e con le opere. E noi, i discepoli di Gesù, lo fanno testimoniando il suo amore, il frutto da portare e l'amore. Attaccati a Cristo, riceviamo i doni dello Spirito Santo. E così possiamo fare del bene al prossimo, fare del bene alla società, alla Chiesa. Dai frutti si riconosce l'albero. Una vita veramente cristiana dà testimonianza di Cristo. E come possiamo riuscirci? Gesù dice Se rimanete in me e le mie parole rimangano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Anche questo è audace. La sicurezza che quello che noi chiediamo ci sarà dato. La fecondità della nostra vita dipende dalla preghiera. Possiamo chiedere di pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e le cose con gli occhi di Gesù. E così amare i nostri fratelli e sorelle a cominciare dai più poveri e sofferenti, come ha fatto Lui. E amarli con il suo cuore e portare nel mondo frutti di bontà, frutti di carità, frutti di pace.